Gianni grandissimo Ciao, ciao, si, si Senti, ti ho chiamato perché c'ho un gruppetto per le mani Metal, metal, sai che io mi occupo di metal, si Oh, un pubblico che beve? Poi questi 15 persone tra pubblico te li fanno sicuro, sicuro, si Non ti interessa Oh, aspetta, prima di dire non ti interessa Il batterista è alcolista, è alcolista proprio Cioè, sta smettendo, però Vabbè, mica deve smettere stasera Non ti interessa Vabbò, Gianni Amplificazione Tu mi chiedi dell'amplificazione, ti dico solo una cosa Ampli da 15 watt No, Gianni, Gianni Non me li puoi far suonare alle 11.30, ragazzi, dai Ma che questione d'immagine Questi devono andare a scuola domani, eh Ma che superiori Questi fanno le medie Vogliono giovani adesso, eh Ma sì, ma per l'amplificazione ci aggiustiamo Vedo anch'io che sto in magazzino, sai Ma come è troppo lungo il nome sul manifesto Memories, entertainers, rule, dominance È troppo lungo Vabbè, metti solo le iniziali Un po' come System of Dawn Ah Cioè, viene merd Allora, scrivilo con i caratteri più piccoli Cioè, faccelo stare intero, eh È meglio Cioè, se portano figa il concerto Ti dico solo una cosa Io ho la cartellina qua Con le loro fotografie dentro E ti dico Beh Ci avranno delle sorelle, no?